Maxi Blitz all'interno del parco dei Cappuccini a Montevarchi. In manette sono finiti quattro pusher, sequestrato invece denaro, droghe e telefoni cellulari. Si è conclusa così l'operazione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Giovanni Valdarno e della stazione di Montevarchi. Il tutto era partito a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini che segnalavano un sospetto andi rivieni all'interno dell'area verde. I carabinieri hanno così dato avvio all'attività investigativa fatta di servizi di osservazione e pedinamento. A presidiare il parco ieri mattina 35 uomini in abiti civili e in tute mimetiche con il supporto delle unità cinofile. Dopo aver documentato la cessione di sostanze stupefacenti persino sotto la pioggia è scattato il blitz dei militari. I quattro spacciatori nonostante il tentativo di fuga sono stati bloccati. Le perquisizioni inoltre hanno permesso di trovare droga, denaro ed infine cellulari. In manetta sono finiti quattro giovani nigeriani di 32, 33 e 28 anni tutti domiciliati a Montevarchi. Sequestrati 15,5 grammi di infiorescenze di marijuana racchiuse in 11 involucri di stagnola, 9,5 grammi di cocaina suddivisa in 11 ovuli di pellicola trasparente e carta igienica, 0,4 grammi di hashish, oltre 1200 euro ritenuto a provento dello spaccio, 12 telefoni cellulari ed infine alcuni appunti che riportavano la contabilità dell'attività illecita.